Vi devo raccontare questa cosa perché mi sto beccando una quantità incredibile di insulti ma mi sto divertendo come un pazzo Ogni mese io vengo contattato da almeno un fuffaguru Uno di quei tizi con l'account pieno di foto della casa a Dubai Ti insegna come arricchirti con le criptovalute, il dropshipping Questi mi chiedono di fare promozione a pagamento sui miei account delle loro attività Siccome non sapevo cosa rispondere, qualche mese fa ho scritto una mail che mando uguale a tutti Nella mail c'è scritto questo Visto che tu parli di come fare facilmente soldi L'unico modo che ho per testimoniare che tu effettivamente hai fatto tanti soldi è chiederti tantissimi soldi E quindi ti chiedo la cifra di 15.000 euro per una singola story di 30 secondi In cui io testimonierò che tu mi hai effettivamente pagato 15.000 euro per 30 secondi di lavoro Fino ad oggi ho mandato questa mail ad almeno 40 persone Mi hanno risposto circa 30 mandandomi a cagare